...che ci sono finora pervenuti delle prime quattro ruote. Grazie a tutti. 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 con me. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. le telefonate ma piacere sempre con il genio di scudere senza ruote, senza niente non è che non è ruote ce l'ho visto pure in altre ruote, sono 1.990 mi danno lo scooter, il casco, o le cose per la casa, la vostra vita, la fatica stico libero oppure il corredo 1.990 1.990 non vanno niente solo quando la diamo ma io non ho bisogno di scudizioni ma buon pezzo un motorino buono e ci sono tre migliori se c'è la tua cosa non è 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 un po' più capace si è un po' più capace ma dai, entra dai, ti mangi solamente la cipicina va bene mangio, ah, forse che stiamo a prendere la partita mi ha detto anche un videoregistratore esatto, è una maniera non lo so, non lo capo mangiate solo mangiate che era la partita è una sua opzione senza criticare il dott. Tino ha il dallo l'altro 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 finito è venuta prima secondo me l'altro 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 ma si fa tutta la parte e la cella e la cella e la cella e la cella questo è la ragazza e la cella aah e la cella 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 Allora, chi lo va a fare tra tutti questi? Sì, ma fatti, guarda. Aspetta, non c'è un'idea. Tieni tu e tu. Facciamo un inco, crocca si è un puttone. Ah, certo. Uno, tre. Uno, due, tre. Andiamo a prenderla. Così, guarda. Ma non sta nel tuo caso così, con la palla. Ma non è quella, non è ancora qui? No, non è ancora qui. Così, guarda. Così, guarda. Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.